Ansa, Milano, 28-8, Milan-Giuve è una sfida speciale, per la D della Juventus, Beppe Marotta, anche se non uno scontro al vertice perché i rossoneri sono in ritardo? Perché il Milan è così indietro? Forse è stato sproporzionato l'entusiasmo estivo, perché quando cambi tanto è difficile trovare subito la compattezza. Forse poteva avere qualche punto in più, ma siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Il Milan è una squadra temibile che va rispettata e aspettata, ha detto Marotta poco prima del Big Mac di San Siro. Il dirigente ha anche parlato del momento di Dybala, che ha rotto i rapporti con lo storico procuratore. Quanto ha inciso? Direi poco, perché la società è vicina al ragazzo per cercare un'intesa. Dybala, ha continuato, è un giocatore, che ha ancora margini di crescita, è giovane e migliorerà. Ha responsabilità notevoli, a cominciare dal peso del numero 10, leggendario per il calcio. Le sue prestazioni sono comunque positive e stiamo cercando un Dybala che possa rappresentare la nostra storia.